Vabbè la raga e ben ritrovati ancora una volta qui sul canale di Rubansky, parliamo di Dead by Daylight, video tematico perché oggi vi voglio spiegare come funziona il matchmaking di Dead by Daylight. Per chi non mi conoscesse sono un giocatore di Dead by Daylight da lontano 2017, lo porto dal 2018 in live su Twitch quasi tutti i giorni, ho quasi raggiunto le 10.000 ore di gioco e da diversi mesi gioco anche a livello competitivo internazionale. Voglio parlare con voi di come funziona il matchmaking perché molto spesso si fa confusione riguardo al rank che vedete, il rango che vedete nel gioco e il matchmaking che invece è basato su un sistema chiamato SBMM, ovvero Skill Based Matchmaking. Se il rank su Dead by Daylight funziona con il sistema di emblemi dove in base ai punti evento che accumulate durante la partita potete ottenere degli emblemi di qualità dal bronzo, anzi no, dal sotto il bronzo, dal nulla fino all'iridescente per riuscire ad ottenere il cosiddetto pipino che vi permette il progress, il punto di progresso sarebbe il pip che vi garantisce di salire di rango, non ha alcuna influenza il rango sul matchmaking, è solo un sistema di ricompensa. Se voi salite di rango ogni 13 del mese nel momento in cui c'è il reset rank venite ricompensati con dei punti sangue in base a come siete arrivati con il massimo del punteggio che equivale a un milione di punti sangue per side. Quindi se riuscite ad arrivare rango 1 iridescente sia serve che killer ottenete 2 milioni totali di blood points. Ma come vi dicevo il rango in nessun modo influenza il vostro matchmaking e quindi i compagni di squadra e gli avversari che vi potete trovare. E quindi andiamo a parlare con voi di questo misterioso SBMM. Che cos'è? È una sorta di punteggio. Sicuramente diversi di voi magari hanno giocato o tuttora giocano a dei multiplayer che hanno le cosiddette ranked, dove magari c'è un sistema di punteggio chiamato MMR. L'SBMM di DBD è simile al concetto di MMR. In base al punteggio che hai vieni matchato con altri giocatori che hanno un punteggio simile al tuo. Però l'SBMM di Dead by Daylight è diverso dall'MMR di altri multiplayer. Innanzitutto tu non sai qual è il tuo SBMM. Magari tu stesso che stai guardando il video è la prima volta che ne senti parlare. Perché nel gioco non è presente e in nessun modo puoi andare a trovarti a quale SBMM corrisponde il tuo punteggio. Questo perché su Dead by Daylight esiste solo la modalità pubblica, non c'è la ranked. E i dev al momento non sono intenzionati a renderlo quindi competitivo anche nel gioco normale. E quindi non vogliono farti vedere che punteggio hai per, non lo so, inasprire la community, farla traiardare troppo come se non lo facesse già abbastanza. Fatto sta che è un punteggio nascosto. Però voglio comunque spiegarvi come funziona. Riassumendo quindi, Rango non influenza in nessun modo il sistema di matchmaking. Punteggio nascosto chiamato SBMM e in base a questo punteggio venite matchati con gli altri. Come funziona questo SBMM? Allora innanzitutto vi spiego un'importante differenza per quanto riguarda Survivor e Killer. Survivor e Killer hanno punteggi di SBMM diversi. Se nel Surfside avete un SBMM identico per tutti i sopravvissuti che andate a giocare, lato Killer no. Ogni Killer, con ogni Killer tu avrai un SBMM diverso. Ed è anche il motivo per cui, se andate a giocare Survivor e mettete Ready, potete cambiare con qualsiasi Survivor quello che state facendo, no? Mentre da Killer no. Lo avrete notato, una volta che voi scegliete di giocare da Killer, non potete cambiare il personaggio prima di entrare in lobby. E nella lobby poi siete alloccati e non potete cambiare. Questo perché ogni Killer che vai a giocare ha un suo punteggio con cui devono essere accoppiati i sopravvissuti che affrontano quel Killer specifico. Innanzitutto, le informazioni che vi sto dando sono informazioni che sono state rese note dagli stessi developers quando annunciarono il sistema di SBMM. Quindi la fonte è quella. Più mi sono dato anche una rinfrescata su alcuni concetti dalla wiki di Dead by the Elite, perché l'ultima volta che l'ho letto come funzionava sono passati un paio di anni, forse anche qualcosina di più. Quindi tutto quello che vi sto per dire lo potete verificare anche da soli nella wiki di Dead by Daylight, nel caso in cui non vi fidaste di quello che vi dico io. Inizio a spiegarvi come funziona l'SBM per i Killer. Parto dai Killer perché è quello più semplice da spiegare. I serve è un pochino più complesso, quindi iniziamo dalla parte più semplice. Come funziona l'SBM per i Killer? In poche parole, i Killer ottengono punti MMR in base a quanti sopravvissuti uccidono oppure ne perdono in base a quanti fuggono. Iniziamo col dire che c'è un sistema che regola questo SBMM attraverso il concetto di sconfitta, pareggio e vittoria. Per il Killer, uccidere zero serve o un solo serve verrà considerata una sconfitta e quindi ci sarà una perdita di MMR. Uccidere due serve invece verrà considerato un pareggio da parte del sistema e quindi non perderà alcun punto, mentre invece se dovesse uccidere tre o quattro sopravvissuti riuscirà ad ottenere punti MMR in più. Molto importante da considerare il fatto che il sistema di SBMM non considera minimamente il modo in cui è morto il sopravvissuto nel calcolo del punteggio, considera solo il fatto se è scappato o è morto. Altro concetto fondamentale che dovete capire è il fatto che la forza quanto è alto l'SBMM del tuo avversario influenza il punteggio che andrai a ottenere alla fine di una partita se viene vinta o se viene persa. Per esempio se il tuo avversario ha un punteggio piuttosto più alto del tuo nel caso in cui tu perdi succede che perdi meno punti e il tuo avversario ne ottiene pochi. Al contrario se invece tu hai più punti del tuo avversario e parecchi e perdi perderai molti punti SBMM sul matchmaking mentre il tuo avversario ne otterrà parecchi di più. E poi per concludere c'è un concetto che ruberò qua il termine proprio dalla wiki di tbd che si chiama Killer MMR Rubber Bending. Cosa vuol dire? In pratica sì è vero che tu da killer hai un punteggio separato per ogni killer che hai del roster. Per esempio con Freddy Krueger hai tot punteggio quindi avrai un certo matchmaking con un altro killer avrai un altro punteggio e quindi avrai un matchmaking Mario un po' diverso. Però cosa hanno fatto i dev per evitare che magari quello che gioca sempre un killer ha un matchmaking di un certo tipo e quello che non gioca mai poi... Per esempio tu giochi tanto Freddy Krueger perché non lo so c'hai qualche problema te piace tanto Freddy e giochi tanto Freddy. Bene. Però la NURS tu non la giochi mai per dire. però per evitare che quella partita con la NURS tu poi ti vai a beccare giocatori che hanno appena iniziato a giocare, però l'effetto che tu sei troppo più bravo di loro, no? È vero che la NURS la giochi poco ma comunque sì hai molta più esperienza magari di giocatori che stanno all'inizio. Praticamente il killer con cui hai il punteggio più alto ti carria anche un po' gli altri nel senso che va a modificare i punteggi anche di tutti gli altri killer. Quindi tu non puoi avere con un killer un matchmaking contro, non lo so, tutti i pro player, mettiamo caso, e con un altro che magari non giochi mai, quando lo vai a giocare becchi solo giocatori che hanno appena iniziato, d'accordo? Questo proprio per mantenere un iniquilibrio. Per questo si chiama MMR rubber banding, perché è come se tutti gli altri killer rubassero un po' di punti dal tuo killer di punta, che fa un po' da trascinatore. Spero di essere stato abbastanza chiaro nello spiegarvi come funziona l'SBMM da killer. Se avete domande fatele nei commenti. Io spero di essermi spiegato bene. Adesso passiamo a come funziona il serve side. Statemi dietro perché, ragazzi, è un pochino più complesso del killer side. Se per quanto riguarda il killer side è tutto molto netto, più o meno, ovvero guadagni i punti, se hai fatto 3 su 4, 4 su 4, ne guadagni di più facendo 4 su 4, chiaramente, ne perdi se fai 0 o 1 su 4 e pareggi se fai 2 su 4, Lato serve è molto più fumosa la cosa, è molto più fumosa. Lato serve non c'è la cosa che guadagni MMR scappando, lo perdi, morendo. Non funziona in questo modo. In pratica, proprio citandovi quello che dice DBD Wiki, all'interno della partita di Dead by the Dead è come se ci fosse una sorta di gioco interno al gioco. Ovvero, tutto quello che fate durante la partita è, come ve lo posso dire, settorizzato in minigame con dei loro punteggi, in base a quanto avete successo. Tant'è che i dev, quando annunciarono il sistema di SBMM, dissero in modo molto vago che, appunto, non si sarebbe basato sulla fuga e la morte, ma su una serie di statistiche. Ebbene, praticamente, mentre giocate da Survivor, è come se faceste anche dei minigiochi all'interno della partita stessa, con questo sistema invisibile, che in base a come vanno questi minigiochi, ottenete o perdete dei punti, d'accordo? E che andranno tutti questi minigiochi a farvi ottenere un punteggio finale, che chiaramente potrebbe essere positivo, e in quel caso guadagnereste punti SBMM che varrebbero alla fine della vostra partita, oppure vi li farebbero perdere, se la maggior parte di questi fantomatici minigiochi dovessero essere andati male. Ma non finisce qui, perché c'è un modificatore ai punti che ottenete di SBMM durante la partita. E cos'è che influisce in questo modificatore? Il tempo. La durata di una partita influenza la quantità finale di punti che i giocatori guadagnano, ed è cappato questo moltiplicatore fino a un massimo di 10 minuti, nel senso che una volta che è arrivato a 10 minuti di partita, a quel punto il moltiplicatore dei punti è già al massimo, quindi più su di quello non vi può aiutare. Chiaramente anche la fuga e la morte partecipano a questo mappazzone di minigiochi, punti che ottenete alla fine della partita. Vi ricordo sempre il discorso se il killer ha un punteggio troppo più alto rispetto a voi, e questo influenza in un certo modo il vostro poi punteggio finale, la stessa cosa se ce l'ha più basso, bla 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 bla. Discorso che quindi come funziona lato survivor, e poi c'è un discorso però da fare per quanto riguarda invece i pre-made, i team. Come funziona se giocate con un gruppo di amici? Se cercate una partita con i vostri amici, il vostro punteggio finale sarà influenzato anche da quello che succede ai vostri compagni di squadra, cosa che invece non succede in solo queue. Per farla molto semplice, in base ad ogni compagno di squadra che riesce a fuggire, nel caso in cui anche voi riuscite a fuggire, avrete ancora più punti SBMM, se morite invece la perdita di punti causati dalla vostra morte sarà ridotta, al contrario se invece il vostro compagno di squadra, per ogni compagno di squadra che muore, se fuggite vi verranno ridotti i punti che otterrete dalla vostra fuga, se invece morirete saranno ancora di più i punti che perderete. Questa meccanica è stata aggiunta per non penalizzare troppo a livello di matchmaking quei giocatori che quando giocano con gli amici magari si sacrificano per far scappare l'amico, ok? Quindi per ridurgli un po' la penalità di un gesto comunque sia eroico è stato introdotto questo e bla 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 bla. Questo ragazzi in soldoni è come funziona l'SBMM, questo punteggio nascosto, che regola il vostro matchmaking. Ma non è tutto, non è tutto, perché c'è anche il fattore della ricerca degli altri giocatori. Perché sicuramente vi sarete risi conti che ma com'è che abbiamo un sistema del genere, però non è così efficace questo sistema, non funziona così bene. Allora su questo raga andiamo un po' più sul vago e il teorico, perché qui non abbiamo delle cose ufficiali. Sappiate che funziona in questo modo la ricerca dei giocatori. Voi avete un certo punteggio, d'accordo? Mettete play, sia lato killer che lato serve, voi mettete play, e il gioco inizierà una ricerca di chi sta cercando insieme a voi una partita, ok? Bene, come funziona? Inizialmente ricercherà giocatori molto vicini al vostro punteggio per cercare di darvi la lobby più accurata possibile. Ma se non dovesse trovare dei giocatori vicini al vostro punteggio, allora la ricerca si espande e inizia a cercare anche a punteggi, sia più bassi rispetto al vostro punteggio, ma anche più alti. Ok? Lo so che già hai capito dove voglio arrivare. È uno dei motivi per cui a volte i giocatori, che magari non è nemmeno da tanto che hanno iniziato a giocare a Dead by Daylight, incontrano giocatori molto più bravi di loro. Eh già. Purtroppo il sistema non è fatto benissimo. A parte un sistema comunque complesso, capite bene che un gioco come DbD, creare una partita concettualmente bilanciata è molto difficile, davvero molto difficile, ma, oltre a questo, è un sistema che, per come è regolato, predilige la velocità di ricerca della partita. Cerca di farti giocare il prima possibile, a volte anche a scapito dell'accuratezza. Questo soprattutto quando c'è particolare coda in uno dei due side. Se c'è troppa coda a lato surf, ovvero ci sono troppi survivor che stanno cercando la partita, o c'è troppa coda a lato killer, troppi killer che aspettano survivor che arrivano, il sistema dà delle sorte di accelerate che, insomma, cerca di sbolognare il prima possibile la fila, ma ha i danni dell'accuratezza della lobby. Quindi, detto ciò, ragazzi, questo è tutto quello che so per quanto riguarda il funzionamento del matchmaking di Dead by Daylight. Mi sono basato molto su quello che hanno detto i dev all'epoca, non ricordo nemmeno quando, se erano due o tre anni fa, ho perso la cognizione del tempo su Dead by Daylight. Molto appunto si basa su quello che dissero i dev all'epoca, e tanto, anche su, insomma, mi sono dato una ripassatina anche sulla wiki di DBD, ho cercato di essere più accurato e darvi la spiegazione in modo più semplice possibile. Spero di avervi, insomma, fatto capire come funziona, quindi ricordate, mi raccomando, rango non vuol dire niente, se hai un rango alto non vuol dire che sei forte o se ce l'è basso che sei scarso, non è in base a quello con cui vi matchate, ma con questo punteggio chiamato SBMM, che vi ho spiegato. Spero vi torni utile questa spiegazione, che l'abbiate trovato interessante, lo so, è tutto molto teorico, è un approfondimento, spero ve lo abbiate gradito, fatemi sapere nei commenti se lo avete gradito, ricordate di lasciare un like cuccio a questo video per supportarlo, e passateci a trovare su Twitch quando volete. Detto questo, per oggi è tutto, e al prossimo video.